I giovani imprenditori agricoli della CIA, riuniti nell'associazione Agia CIA e i ragazzi dell'Istituto Tecnico Agrario Giovanni Penna di Asti, al lavoro per ricostruire il vigneto di località Fontanino. Barbatelle di Freisa, Nascetta, Barbera e Arneis, trattate con un metodo innovativo per la difesa delle piantine, sono state reimpiantate. La vigna didattica, lavorata dai ragazzi delle classi quarta e quinta insieme a tecnici e agricoltori, è stata ufficialmente riconsegnata all'Istituto Agrario, che in collaborazione con i tecnici CIA e i giovani viticoltori dell'Agia, sarà condotto nei prossimi mesi dagli operatori dell'azienda agricola annessa all'Istituto e dagli studenti delle ultime due classi, che così avranno a disposizione proprio sul campo uno strumento didattico insostituibile per la corretta conoscenza della coltivazione della vite e per una specifica educazione all'uso di nuove tecniche di difesa e rispettose della salute degli agricoltori e dell'ambiente. Sì, abbiamo voluto ridare le vigna all'Istituto Agrario, un istituto che è importante per il nostro territorio perché forma i futuri tecnici agricoli, i futuri agricoltori, i futuri tecnici che andranno a girare le nostre aziende agricole. Quindi è doveroso che l'Istituto Agrario riprenda a nuovo vigore, soprattutto orientato al patrimonio unesco delle nostre coline, quindi ai vitigni. Abbiamo ridato un nuovo vigneto didattico dove fare sperimentazione, dove fare didattica, per formare davvero a 360 gradi i futuri studenti che usciranno da questo istituto. Ecco, la particolarità sta nelle barbatelle, trattate in maniera diversa dal solito. Ecco, ce lo spiega? Sì, abbiamo fatto delle tesi con delle micorizze, con dei prodotti che creano resistenza alla pianta per contrastare vari problemi che adesso la viticoltura sta vivendo, in particolare quello della flavescenza dorata. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo, grazie all'Istituto Agrario e grazie a questo vigneto didattico, di dare alcune risposte alle varie problematiche che la viticoltura piemontese, soprattutto a Stigiani, in questo momento sta vivendo.